Noi non stiamo facendo i salti di gioia, non abbiamo vinto nulla, ci prendiamo atto e la nostra ordinanza aveva, come si può dire, una spina dorsale diritta. Hanno valutato fino in fondo la nostra memoria, quella del direttore scolastico regionale. Penso che le motivazioni ci siano state tutte, è l'ulteriore dimostrazione che qui non si fanno le ordinanze per partito preso. Commenta così il presidente Zaia la decisione del TAR che ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza regionale che aveva bloccato la didattica in presenza per le scuole superiori fino al 31 gennaio. Per le famiglie e i legali che le hanno supportate in questa vicenda però la partita non è ancora chiusa. Ha ritenuto che le nostre ragioni non appaiono del tutto sfornite di elementi di fondatezza, quindi la questione è tutt'altro che decisa e quindi si deciderà all'udienza del 27. Il giudice della prima sezione del Tribunale amministrativo ha fissato un'udienza in Camera di Consiglio per il giudizio cautelare il 27 gennaio. La questione della sospensione del provvedimento è ancora attuale. L'udienza che si celebrerà il 27 è proprio volta di nuovo a valutare la possibilità di sospendere l'ordinanza. Nel decreto il giudice amministrativo sottolinea che gli interessi delle parti sono meritevoli, di altissima considerazione e costituzionalmente rilevanti, ma tuttavia allo Stato non sussiste quella situazione di estrema gravità e urgenza che non consente la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio. I 17 genitori hanno intenzione fino alla fine di far valere le loro ragioni. Ritengo che la scuola, come tutte le categorie economiche che non sono di inferiore o maggiore importanza, abbiano diritto ad un piano di rientro sicuro. Siamo molto fiduciosi perché da quello che non da tecnico ho letto nel ricorso mi sembra che il TAR abbia colto il problema e quindi ci aspettiamo una soluzione.